Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Municipium è l'applicazione per smartphone e tablet che permetterà ai cittadini di interagire con l'amministrazione locale segnalando criticità e inviando consigli. Sarà possibile inoltre trovare velocemente tutti i contatti utili, i numeri di emergenza, quelli delle farmacie, i luoghi di interesse ed essere avvisati attraverso una notifica push sulla data del ritiro della raccolta differenziata. Un progetto di cui si parla da mesi che presto sarà disponibile anche per i cittadini di Voghier rappresentato proprio a JAPTV dall'assessore Marina Zaretti nei giorni scorsi. Pensi che sia un'iniziativa interessante oppure no? Sì. Come mai? Per la popolazione può essere una buona cosa, siccome non tutti sono informati. e soprattutto magari anche i giovani, secondo me tramite lo smartphone e le applicazioni potrebbe essere una buona cosa, assolutamente. Il fatto di poter segnalare criticità che ci sono in città all'amministrazione secondo te è giusto oppure non dovrebbero essere i cittadini a fare queste segnalazioni? Ma no, potrebbe essere giusto però fino a un certo punto di vista, cioè su cose che veramente servono alla città, alla nostra città, ma non in grande quantità diciamo, direi essere più controllate magari su certe criticità. Tu sei di Voghiera? Sì. Pensi che la scaricherai? Ma perché no? Ma no, superfluo non c'è nulla, però dipende come poi è applicata, perché in Italia siamo abituati a belle cose applicate male. Infatti il dubbio è che poi magari le segnalazioni non vengano controllate, non vengano prese in considerazione. Secondo lei è possibile che accada anche qua oppure no? Sicuramente non mi sveglio mezz'ora prima per leggere il cellulare a vedere se arriva il signore che porta via l'umido. Dipende. Comunque in generale questo tipo di iniziative, anche che mettono in contatto la cittadinanza con l'amministrazione, trova che siano positive? Sì, secondo me sono positive. Qualcuno dice che non dovrebbero essere i cittadini a segnalare le criticità all'amministrazione, penso che è così oppure questa interazione e collaborazione la promuove? No, beh, mi sembra una cosa corretta, non penso che l'amministrazione possa arrivare ovunque, ci sono delle zone dove i cittadini sono molto più vigili dell'amministrazione. Quindi scaricherà municipio? Sicuramente sì. Secondo me è un'ottima idea, anche perché attualmente siamo tutti connessi 24 ore su 24, quindi si fa anche un po' fatica nel complesso a cercare tutte le informazioni in vari siti. Quindi se c'è un'applicazione che raggruppa tutto e c'è una sorta di motore di ricerca, dentro l'applicazione per qualsiasi domanda è un'ottima idea. La scaricherò? Sì. La scaricherai? Sì, ovviamente sì. Trovi che sia anche comunque una buona cosa per chi magari non è di voghera e arriva qua nella nostra città e vuole trovare in qualche modo una piattaforma che raccolga tutte le informazioni utili anche per i turisti, luoghi di interesse? Sì, sì, ovviamente sì. Cioè, oltre per i cittadini è anche utile per chi arriva da fuori. Ci sembra giusto che siano i cittadini a segnalare le criticità che ci sono in città oppure no? Beh, ovviamente sì. Si può fare il tutto anche adesso, però magari o a voce o con modelli cartacei o recandosi in comune, però così è molto più semplice. E tu lo faresti? Sicuramente lo farò e lo farei. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.